buongiorno buongiorno a tutti rieccomi con voi oggi c'è tantissimo da dire visto che stamattina eh così come previsto anche più a sud del previsto eh intensi temporali si sono verificati lungo tutto un allineamento che partiva dal nord est dal triveneto e soprattutto arrivando nel medio tirreno davanti le coste laziale toscane con un tornado incredibile tornado eh a Civita vecchia proprio nella eh in prossimità del centro cittadino eh già abbondantemente filmato che è stato riportato anche in un precedente video che vi invito a guardare qui sul mio sito e e quindi innanzitutto adesso vi mostrerò cosa accadrà perché c'è ancora molta instabilità in secondo luogo iscrivetevi al canale YouTube a maggior ragione con aggiornamenti costanti cliccate sulla campanellina così ogni volta che metto un video stamattina ne ho messo addirittura due dove descrivo il cielo di Roma che era fantastico sebbene non ci fossero fenomeni in particolare rilevanza e poi il tornado l'incredibile tornado con una serie di forti temporali che dalla costa del Viterbese si sono eh spinti all'interno forse probabilmente all'interno di una struttura eh tipo MCS meso scale convective system quindi un agglomerato molto intenso di temporali vi faccio vedere subito che cosa sta accadendo ecco qui eccolo guardatelo l'enorme pallone temporalesco che ora si sta allontanando e indebolendo ma alta nestabilità avanza da ovest questo perché eh ci ha raggiunti il cavo d'onda così come annunciato già in precedenza e eh all'interno di quella che era eh la depressione che stazionava in Atlantico che ora sta entrando nel Mediterraneo che sta scacciando il caldo eh che diciamo eh ancora arroccato al sud ma che sta via via scomparendo eh perlomeno in questa fase per e questo è guardate qui stavo ancora all'agglomerato temporalesco guardatelo eh a largo un paio ecco qua sono il centro che si sta via via liberando vi faccio vedere meglio da Windy eccolo qui vedete l'uglo intenso temporalesco al nord est che si sta allontanando ma ancora in azione su Trieste e quello di questa mattina ora indebolito del centro Italia vi faccio vedere subito cosa sta accadendo in merito a ecco qua questa è la carta attuale vedete come sta entrando questa zona gialla e verde eh che è la bassa pressione in Atlantico che sta entrando nel Mediterraneo centrale e qui si sta allontanando via via il l'alta pressione africana nei prossimi giorni ecco continuerà anche domani questo cavo d'onda che non raggiungerà il sud ma eh o meglio nei giorni successivi poi eh raggiungerà anche il sud portando aria più fresca poi forse un'altra di Montecalda questa alternanza in seno sempre è un getto molto ondulato cioè con alternanza di freddo e di caldo che ci raggiungono e poi ecco qua che potrebbe arrivare una rinfrescata più decisa eh proprio con l'arrivo dell'autunno astronomico dopo all'inizio della terza decada vi faccio vedere questa è solo un'anticipazione ve la faccio vedere adesso nelle mie carte nel dettaglio cosa sta per accadere allora ecco qua questo è giovedì pomeriggio vedete temporale che vi ho mostrato dove sta ehm diciamo impattando con la eh dorsale appenninica genereranno altri temporali lungo tutto eh diciamo l'appennino settentrionale ma ancora il nord-est alto adriatico e poi domani ecco qua altri violenti rovesci qui eh la distribuzione è molto sparsa ma qui portano per esempio accumuli di cento centocinquanta millimetri che è bene molto localizzati e tutta la pianura padana centro orientale per tutto domani venerdì ancora forte instabilità questo perché c'è questo cavo d'onda ecco qua lo vedete questo è l'Italia questo è il cavo d'onda del getto il getto polare cioè eh la linea di demarcazione tra aria fredda polare e area calda in tropicale eccola qui passerà proprio per il centro nord domani e per questo motivo il tempo resta instabile poi c'è questa carta fantastica che abbiamo mostrato prima per il ventuno settembre l'afflusso freddo che si altererà al rimonte caldo che ne potrebbe essere un'altra poi eh nel prossimo periodo eh in un clima di variabilità spinta che è tipico del mese di settembre che eh particolarmente in particolarmente visibile eccomi qua con un getto molto ondulato quella linea di demarcazione tra area fredda e area calda che è molto ondulata e quindi si alterano rimonte calde al all'arrivo eccolo qui di eh impulsi freddi e notevole instabilità anche con fenomeni di forte intensità da monitorare quindi ancora le venti quattro le prossime ventiquattro trentasei ore perché ci potrebbero essere altri fenomeni forti al centro nord come già accaduto oggi ricordo ancora il tornado a Civita Vecchia vedete l'altro video ma qui si parla ancora di ventiquattro trentasei ore di forte instabilità aggiorneremo ancora un abbraccio a tutti e a più tardi